Ragazzi oggi ogni kill è la nostra arma peggiore, siete pronti a morire perché questo gara è tramite un suicidio? Ma basta che ci buttiamo a pinnacoli e già ci andiamo ad ammazzare praticamente, quindi non so perché stiamo facendo questa challenge proprio a pinnacoli Aspetta aspetta, vi dico una cosa, raga la prima arma che bisogna utilizzare è per forza la K, AR e Fama, se io l'ho appena trovata, GG Ah ok, io non trovo niente invece sto trovando tutte le altre armi, penso un po' che bello Io ho trovato il pompa bianco e c'è uno qua da me che mi sta piccolando ma non posso ucciderlo, come faccio? E raga arrivo io, arrivo io, lo prendo io, poi vi do io la kill, no no arrivo io, è mia, boom No, 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 raga ditemi che aveva una R questo qua ti prego Vieni ti do il mio, tanto non mi serve Esatto neanche io, no aspetta a me serve, che cacchio dico porco mondo raga Allora dopo la R ragazzi c'è la mitraglietta e mammanaggia Vado subito a prendermi quello con la mitraglietta allora, senza problemi Ragazzi ci sta sparando sotto di noi e noi possiamo ucciderli sotto Aspetta arrivo arrivo arrivo, però c'ho 22 colpi, non so dire Ok, allora questo non finisco, mi dà la kill, ok non mi ha dato la kill Mi posso prendere però il tac Porca trota, mi stanno sparando Ok aspetta è mia, è mia, è mia, è mia, è solo mia, è solo mia Ok morto, morto let's go, let's go, let's go Oh ho sbagliato, quanti sei stato tu questo qua, in serio? Eh ho sbagliato, ho sbagliato, volevo prendere questo qua Allora ragazzi, mannaggia chi si è preso col pompa del nonno Colpi piccoli, colpi piccoli Aspetta, aspetta Prima di proseguire ragazzi vi dicevo una cosa stra importante Codice pompa dei legosuggetti, adesso inseritelo tutti mi raccomando Ma soprattutto iscrivetevi al canale, ok? Se mi dovete aiutare a fare la kill Powa, fammi fare le kill con la R Mi dispiace Conti Ma questa è una kill race, se ancora non ve l'ho detto ragazzi Il primo che arriva all'ultima arma Che è questa cosa, il piccone, o comunque quando Finiscono le persone, vince, in questo caso ragazzi Io e Lollo siamo proprio uguali Ragazzi, ragazzi da me c'è uno, posso utilizzare Il pompa del nonno, ok? Ok? Dai però fammi fare la kill a me però, che pazzia Te la faccio fare a te Conti, allora vieni Ragazzi, questo qua è un po' diciamo aiutare Ed eccolo qua Conti è tuo Let's go, finalmente Dai vabbè, oddio, c'è un altro tipo, questo qua però è mio Questo qua ragazzi, giuro che è mio Sicuro che non te lo rubo? No, 88? Che cosa mi traietta fatta? No raga, no no no, dai Seriamente raga, adesso per favore Vi chiedo una cosa, non rubatemi le kill Che io sono bravo, gentile, clemente Con voi, non voglio sclerare Eh ma l'hai detto tu prima, è una kill race Mi dispiace Oddio c'è tipo davanti a me, c'è tipo davanti a me Questo qua me lo faccio No, 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 no Ma mi vuoi lasciare anche quella kill Magari? No, 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 no Non ti lascio proprio niente Conti Mi dispiace ma questa volta raga Me l'ha rubata Lollo Boom, ucciso Molto bene ragazzi E sapete che cosa sono passato adesso? Al tac E già ero pronto con il tac Già siamo pronti Via, lui è già col tac Quindi mi puoi lasciare il pompo del nonno Bravo E in verità sì Eccolo qua Te lo lascio proprio in mezzo Così che ti dà fastidio Lollo E perdi tempo E io faccio la prossima kill Ho un'idea Invece glielo rubo al Lollo Così almeno non può fare la kill Ma non lo puoi usare? Come no? Me lo tengo da parte Così almeno non te lo faccio usare a te No Conti, no, no, no Non puoi Non puoi, non puoi seriamente Eh sì Dai, in verità Lollo mi dispiace di dentro Ma si possono proprio tenere le armi Aia Sta sparando Da dove? Arrivo No, no, da là, da là No ragazzi è la mia kill È la mia kill It's my kill Ma tutte e due sono le kill Fammi capire Aspetta che sta scappando Sto qui, mannaggia Lui Aia Sti Conti ma non l'hai preso? Cioè io Let's go E ho un'altra kill col pompa Mannaggia Ma l'ha rubata Conti Allora Sopra ci sono delle persone Proprio sopra, sopra l'isola Vi dico una cosa Vi devo fare questo Oddio No, no, no Raga Raga da me Raga da me Raga da me Raga da me Arriva, arriva Aspetta Devo prendere la mitraglietta Dopo il pompo Non mi ricordo Sì Sì, 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 sì No La mitraglietta C'è la vedi Conti Sotto, sotto, sotto Sotto, raga Sotto Sotto Che col pompo del nonno No, raga, no Raga Ho lasciato un HP Sto scemo Era quello lì Ed è scappato Comunque Conti Tu hai la mitragliona Ah, la mitragliona Ma cazzarola Allora non posso vincere È impossibile Oddio Sto riuscito a salvarmi Boom 49 Boom Distrutto Marto 1, Marto 1 Col tac, raga Dimmi che avevi La mitragliona è introvabile, però Oh mio Dio La mitragliona è introvabile, raga Eh, capito Io sono arrivato al tac Dai, buono Però vi dico la cosa, ragazzi Potete usare un jolly E schippare direttamente Alla prossima arma E io in questo caso Non andrò a utilizzare La mitragliona normale Ma andrò a utilizzare La pistola Una delle pistole Che si possono trovare, raga Perché infatti Quello è proprio il prossimo Che ce l'ha usato E infatti Eccolo qua, ragazzi Eccolo qua Pistola bianca Che schifo Vabbè, almeno una pistola Ragazzi, vi lascio un tac qui Tutto vostro Se volete prendervelo Bello Peccato che non lo posso ancora utilizzare Cioè, adesso non posso sparare Non posso fare nulla adesso Meno male, Conti Perché ragazzi Tanto Pogo sta vincendo Tanto lo state vedendo 48 Oh mio Dio La pistola è fortissima No Non ci credo Che l'ha chillato lui La pistola è proprio clamorosa Prassi, arma Il caccia O la digolo Comunque qualsiasi cecchino Ragazzi Questo qui è un gran bel problema Ma sapete perché? Perché non si trovano cecchini Ah, io ne ho uno nel mio inventario Mannaggia No, Lollo Lollo Eh, facciamo la cosa Adesso tu me lo dai Uh La digolo No, no, no Conti, no Ragazzi, mi serve a me Vi prego Ah, che ricevo in cambio? 10 euro e te la do No, no, no Avete due jolly, ragazzi Avete due jolly Quello che ho appena utilizzato io Se mi date Ho un cecchino o la digolo Uh Questa è una sfida molto bella Però sai cos'è? La digolo me la voglio tenere per me dopo Capito? Eh, ma io pure il cecchino Me lo voglio tenere per me dopo Quindi vado a fare la mia kill di pompa E poi schippo il mitraglione Quindi sto proprio nel chill Oddio, mi sta sparando già Ah, perfetto Mi hanno letteralmente distrutto Ma qua c'è un tipo Qua c'è un tipo, ragazzi Sto arrivando No, sta scappando quello là Lo vado a distruggere, Lollo Non toccarlo Non toccarlo, Lollo Sto andando io Non lo tocco Lo sto distruggendo Non lo sto toccando Dov'è, raga? Dov'è, raga? Let's go! L'ho rubato a Lollo Mamma mia, quanto sei scarso Molto bene Vi dico solo una cosa Il carrello Ok, da me Arriviamo Cos'è qua c'è il tac Cos'è qua c'è tutto Ok Annaggia Ragazzi ho messo tutti col più possibili esistenziali Con la diagol Annaggia quanto è difficile Sto qua però non posso far niente Basta, mannaggia Questa No, raga Mi sono tirato un lanciacrate nel box Ho sparato a Conti Grande, Lollo, grande Ragazzi è mostro Ragazzi è mostro Eh, non posso sparare con niente Perché Cos'è che tu qui ci stavo dopo Perché mi dimentico le armi C'ho problemi Alla Non ricordo Non so proprio Kill Con il tattico Come con il tattico Ragazzi allora Lollo può andare Ma porco mondo Ma porco mondo Lollo Immagina il tuo amico Conti Si che ha il mitraglione E lo usa tutto lui No, lo schifo Proprio l'ho schifato E passo al cecchino Ragazzi schifo E vado alla pistola Oddio Eccolo qua Eccolo qua Nope Mannaggia Non lo prendo una volta ragazzi Non lo prendo una volta Con sta cacchio di deagle Dov'è che sta però Questo qua Lo vado a prendere Dai non lo prendo C'è stata tra bianco Dai che lo vado a uccidere Oddio Oddio Che super kill raga Oh baby E dopo la deagle Ragazzi io ve la lascio Perché sono un gentleman Sono un gentleman No vabbè Devo prendere Un lanciarazzi Un lanciagranate Che ho già qua nell'inventario Eh me lo sono già preparato Mi dispiace Ma sto già a 6 kill baby Ah 6 kill Io solo 3 Ah ok Mi dispiace Conti Però Diciamo una cosa Bisogna essere furbi Bisogna essere veloci Comunque Comunque Lollo Ti lascio questo super chug chug Ragazzi Andiamo subito in safe Dobbiamo fare altri kill Cioè almeno io lo vado a fare Poi voi fate quel che volete Gente da me ragazzi Aiuto Ok lo visti lo visti Da me ragazzi Dove sei Conti Eh qua Ah ma voi state proprio Dico dall'altra parte del mondo Arrivo Scappo Conti aspetta Facciamo una cosa Dammi adesso i colpi razzi Mi sarebbero colpi razzi Tipo ora Right now bro Arrivo Sono lasciati Ok ok Allora Ragazzi vado a ucciderlo Non mi sembra un fenomeno Quindi posso andare a ucciderlo Tranquillamente ragazzi Continuo la mia kill race Dai po' mi lasci la kill Io almeno Io ti ho dato i colpi Almeno lasciami la kill Mi dispiace ma No lo farà 70 70 Let's go Rubata Rubata bro Tanti c'è Tu quindi passi alla pistola In questo momento Esattamente Ma raga non mi lamento Perché mi ha dato i colpi Sto con un gentleman Davanti ancora Davanti ancora Questo è mio raga Questo come lo prendo tutto io Nel frattempo che l'olgo non c'è No 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 Non è possibile Non lo grillare Non lo grillare Non c'è Perché non lo riesco a far esplodere 74 Dai Ucciso Con l'ultimo colpo Con l'ultimo colpo Non ci credo Stavo sparando eh Stavo sparando Poguati Stavo per rubare tutto Infatti ho visto l'olgo Che tipo gli hai sparato un colpo Dopo che è morta È stato fantastica la scena Incredibile Incredibile Dimmi che mi è il cecchino 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 raga Mi serviva proprio questo Oh che godure Questo si chiama godure a casa mia Ma Poguati Dato che prima Ti ho dato la digol Me la potresti prestare Perché mi serve proprio quella La digol La raga l'ho buttata prima Ma come l'hai buttata Mi serve a me Allora ragazzi Nel mentre che voi cercate Una digol Un caccia Che sono letteralmente le cose più difficili da trovare Vi dico una cosa Io devo fare solo la kill Col cecchino E poi posso andarci di piccone raga Ed è l'ultima dannata arma Il piccone Anzi se non è proprio un'arma eh Eh ragazzi Io devo per forza andare a lutare qua Perché se non trovo una pistoletta Sono fregato Ragazzi Ho nemici davanti In questo momento Potrei fare la kill Con la pistola Sperando che uno abbia poca vita E invece no Erano full shield Non ci credo Beato tu che puoi sparare Io manco quello posso fare Posso guardare il cielo E sparare agli uccelli Manco quello Ragazzi correte Non sono botta Non sono botta Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Io ho solo il cecchino ragazzi Com'è che facciamo Non posso proprio sparare Cioè sono pure E poi guai Io non posso fare niente Quindi posso sparare solo io Sì Quindi mi sta di sì Lollo Ah Aspetta aspetta Provo tirare di una super cecchinata Dov'è che sono ragazzi Datemi una mano Esattamente davanti a me Ok ok lo visti Allora conti Mi dispiace che non stai trovando una pistola Però è l'unico modo che hai per andare avanti Trovarla quindi In realtà io sto super bene Lei è pieno Ah Ok davanti 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 qua Oh mio dio raga mi sta pushando Il punto è che Cioè sto proprio messo male Così c'è il pompa tattico super assurdo Ragazzi io sono morto Trovo finita Vi do l'addio Ho trovato una pistoletta ragazzi Ho trovato una pistoletta meno male Bianca ovviamente Ok 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 raga Ok morto uno Distrutto l'altro Distrutto l'altro Lo faccio io Mi sparano mi sparano mi sparano ragazzi da sopra Ok finisco questo col cecchino Finisco questo col cecchino Raga voglio utilizzare un jolly No l'ho sprecato il jolly Oh no Ho fatto la kick con la pistola Arrestatemi Vi prego vi prego bua Sto arrivando qui 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 Sto arrivando sto arrivando sto arrivando sto arrivando Boxati Ho fatto la kick con la pistola quindi Cecchino Sì adesso stai col cecchino L'ho lasciato qua adesso Ragazzi vi posso dire una cosa Possiamo solo vincere Solo grazie al vostro aiuto Perché io c'ho solo da utilizzare il piccone E il piccone lo sapete che è un gran problema Eccolo qua Oh c'è gente C'è gente Aspetta aspetta Ragazzi guarda me guarda me Ditemi che avete una trappola Posso utilizzare le trappole con sta roba Ah ok No ragazzi via 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 Io scappo Ah no 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 E voglio salvare Conti raga Voglio salvare Conti ma la vedo molto difficile Salvami bro Ragazzi è letteralmente impossibile questa volta Oddio Conti da me conti da me No l'hanno rissato raga questo qua L'hanno rissato Lollo aiutaci Eh ci provo il cecchino Eh raga sono morto Raga sono morto Oddio non sono morto non sono morto Scherzo mi sa che sono morto Scappa bua Eh come faccio a scappare raga Ad utilizzare solo il piccone Eh ragazzi sono col cecchino Come lo killo Impossibile Eh raga è letteralmente impossibile Ma sapete cosa vi dico Via rifto Devo trovare un qualcosa Ragazzi non so cosa fare Cioè sono solo col piccone Impossibile che io vada a vincere sta partita Campera Campera fino a fine partita È dietro di me È proprio dietro di me Che faccio Prendi il tattico Se ne ho consento Prendi il tattico Sparagli in fronte Prendo il pompa Prendo il pompa Prendo il pompa No No Immagina arrivare terzi Immagina arrivare terzi Oh però Però raga Abbiamo fatto questa challenge E siamo arrivati terzi Oh diciamo che la considero Quasi una vittoria Eh anche per me ragazzi È quasi una vittoria Ci vediamo al prossimo video Codici po' nelle cose gente Ciao